Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 dei migliori mixer per DJ del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato il mixer per DJ Hercules Universal. Grazie all'applicazione downloadabile che accompagna questo dispositivo potrai davvero coinvolgere i tuoi ospiti. Per un'animazione indimenticabile, è possibile controllare il mix tramite smartphone o tablet oltre al pc. Questo grazie alla tecnologia bluetooth My Remote e all'app DJ Used Master. Teniamo ad ogni modo a far notare che l'app è a pagamento. Questo mixer incorpora inoltre la modalità automatica per permetterti di andare a chiacchierare e bere qualcosa mantenendo il controllo dell'atmosfera. Tutto sarà perfetto! Insomma, il nostro team di Top Tech lo cataloga come un mixer per DJ efficiente e professionale. Ovviamente ti invitiamo a lasciare un commento nella sezione proprio qui sotto. Come al solito su Top Tech, se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet, vai alla descrizione di questo video. Avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato il mixer per DJ Numark Mix Track Platinum FX. Il Numark Mix Track Platinum FX ti dà accesso a serato DJ Lite e dunque a milioni di brani su SoundCloud o Tidal tramite wifi. Inoltre, per coloro che desiderano più funzionalità, basta passare a serato DJ Pro. Questo mixer ti permette di controllare gli effetti software integrati molto facilmente. Troverai pulsanti che forniscono accesso immediato agli effetti, tra cui Echo, Flanger, Reverb, HPF e altro ancora. Tutto ciò per assicurarti di avere facile accesso a tutti gli elementi fondamentali che utilizzerai per creare le tue speciali transizioni. Tuttavia, ciò che può essere notato come un piccolo punto negativo è che i bottoni color argento fanno apparire questo mixer quasi come un giocattolo. Al secondo posto abbiamo selezionato il mixer per DJ Numark Party Mix DJ Controller 2. Il DJ Controller 2 incorpora un jack per cuffie da 3,5 mm e una scheda audio professionale, oltre a un'uscita audio principale da 3,5 mm. Ciò consente al DJ di mantenere il controllo sui suoi mix. Inoltre può connettersi a quasi tutti gli altoparlanti, registratori a audio e mixer. Il Numark Party Mix ha tutto ciò di cui un DJ ha bisogno, attraverso il suo set completo di controlli. Segnaliamo le sue quattro modalità pad per controllare completamente il loop audio, il cue point e la riproduzione di campioni. Inoltre offre due canali con crossfader, pitchfaders e jogwheels. Ottimo! E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet fai click sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato il mixer Behringer Xenix 802. Questo mixer Behringer è ultraleggero, è portatile e molto pratico, adatto per essere installato in ristoranti o discoteche. Inoltre questo offre prestazioni singolari, infatti incorpora equalizzatori davvero unici in stile British e preamplificatori Xenix che offrono una gamma dinamica, sbalorditiva, pari a 130 decibel e una larghezza di banda che va dai 10 Hz a oltre i 200 kHz. Insomma, otterrai una prestazione eccezionale. Inoltre, grazie al mixer Xenix otterrai un suono davvero cristallino, senza pari. Tuttavia, ti consigliamo di collegare sempre l'alimentatore per evitare eventuali rumori di fondo. Insomma, ti consigliamo questo mixer Behringer Xenix 802 per le sue prestazioni, la sua efficienza e la sua resa. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare click sui link per ottenere tutte le specifiche più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale Top Tech per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta qui su Top Tech. Ciao!